Andai a casa che ero veramente messo male e mi ricordo che mi mise a piangere e mi disse proprio ma perché non c'ho una vita normale C'era questo amico mio di cui era tipo il mio miglior amico giù Succede che lui continua a chiamarmi e io gli dico guarda Anto non riesco a rispondere perché sto a lavoro Mi richiama, mi richiama, poco prima di entrare al ristorante mi arriva una chiamata che era lui Io rispondo alla chiamata, mi sento uè Giacomo sono Anna, che Anna era la mamma di Antonio Mi fai Antonio si è ammazzato Io sono diagnosticato ADHD, disturbo dell'attenzione e iperattività Lo ammetto, io volevo veramente ammazzarmi Cioè io veramente ci ho pensato tante volte Questo cliente a gennaio ci paga 18.000 euro Per un mese comunque Per un mese di lavoro 18.000 euro Settembre misi una storia dove dissi questo Q4 arriveremo ad aver fatto 5 milioni ai nostri clienti 17 dicembre apro la dashboard di Clavio 10.3 Allora Giacomo benvenuto Grazie Sono contento che sei qua, finalmente ci siamo riusciti Veramente, è un anno e passa Che lo diciamo Non è cosa che parlare, infatti per voi sono contento Mi vedono un bello carico Erano ormai un annesto qualcosa che ti scrivevo che volevo farlo È vero Come ho detto, volevo farlo solo con te perché Mi volevo farlo sul mio canale Perché come abbiamo discusso ieri, secondo me Non escono poi le cose che la gente vuole Nel senso che se poi mi metto a parlare del percorso che ho fatto Giustamente non posso tirare fuori risposte come Ad esempio alle domande che hanno fatto qua Perché magari non avrei neanche in primis fatto queste nuove Certo, ma poi da solo è più difficile andare anche più in profondità, no? Cioè spesso mentalmente non si vuole quasi andare Però se qualcuno ci va, per te comunque te lo chiede Tu ti tiri fuori più facilmente Esatto, esatto Anche come hai detto ieri, alla fine il podcast ti fa tanto Ma secondo me è qualsiasi cosa Ti liberi Infatti per poi lo voglio farlo Sì Hai bisogno Sì, sì Chi sei? Come ti definisci? Prima domanda classica E qual è il tuo business? Sono Giacomo Pigone Io adesso mi definisco finalmente un imprenditore Almeno adesso a guardare indietro Mi definisco come un imprenditore Perché a guardare indietro Prima mi definivo come un imprenditore Ma non lo ero Perché facevo tutto da solo Non avevo una visione imprenditoriale Ero completamente perso in altre cose che non sono importanti Mentre invece adesso mi definisco così Perché come business ho un'agenzia di mail marketing Dove aiutiamo e-commerce ed info business E adesso ragiono, mi comporto, mi muovo, lavoro come un imprenditore Quindi prima ti definivi più che altro un liveo professionista? No, io prima mi definivo un imprenditore Ma in realtà non ero neanche un liveo professionista Era proprio un ragazzo che faceva roba online Era proprio come stavano le cose Questo mi ci ha fatto ragionare una volta che feci un podcast Con Leo Sanchioni Che è su Spotify Che invece un podcast con lui Sono scantata con la puntata io E lui alla fine Ha detto la frase che fa Comunque dobbiamo renderci conto Che noi siamo imprenditori Non siamo ragazzini E staravo detto cazzo però Cioè magari lui può dirlo Perché con quello che fa Lui ha un team Si comporta in un modo Ragione in un modo Io non posso dirlo Perché anche che io metti caso C'è un team Ma se io continuo a guardare cose In un modo diverso Magari proprio le robe che mi interessano Sono cose che non hanno niente a che fare col business Io non sono un imprenditore Sono un ragazzino Che fa soldi Quello che è Però non sei un imprenditore Sei un ragazzino Certo Forse perché all'inizio Anche quando si approccia Il mondo della formazione Nel business Te la vendono un po' così Se no sarà troppo complicato Esatto Te la vendono al Fai soldi Viaggi dove vuoi Giri con gli amici Tutte queste robe Non che metti su un'azienda Esatto Te la vendono così Cioè ti dicono Eh sì Tu ti costruisci un business Però in Italia La parola business È vista diversa Da la parola azienda Cioè la parola business In Italia è vista come Ah sì Fai soldi La parola azienda È vista male Quindi se tu dici Apri azienda Già fallisci Partiamo però dall'inizio No? I assai queste chiacchierate Ci rivolgiamo un po' Un pubblico di ragazzi Ragazze che O non hanno ancora Un business Un'attività online Ma vogliono approcciarsi Oppure ce l'hanno già E vogliono scalare O comunque E avere feedback Anche da chi In maniera a un livello Più alto di loro Ok Brevemente Dove sei nato Come era la tua situazione Familiare Come sei cresciuto Negli anni Diciamo della scuola Allora Io sono nato a Napoli Perché Io sono nato a Napoli Ma poi ci siamo trasferiti A Bolzano Quindi ho fatto completamente Da Quando avevo 4 anni Ci siamo trasferiti Perché praticamente Quando eravamo giù Mio padre Lavorava nel Diciamo dello studio Di mio nonno Che era lo studio classico Dove ti puoi fare le riparazioni Sei tipo Si rompe la tv Vai a ripararla Se cose qua Sì Il fatto è che Mio padre abitava A Secondigliana E quindi Cioè Già aveva capito Che non era proprio La zona perfetta Per poter fare crescere Dei figli Certo E quindi Si è messo E ha iniziato a vedere Le possibilità Di spostarsi Da qualche parte Non so bene Come sono Mio fratello e mia sorella Sanno meglio ovviamente La storia Perché giustamente Essendo che loro Erano già un po' più grandi Sanno anche effettivamente Come è successo il tutto Da come so Io Mio padre poi aveva trovato L'opportunità Di andare a Bolzano Lavorava lì E lui per un po' Da come so Già lui faceva anche Quel pendolare Nel senso che andava su Stava magari un mese Due così Poi tornava Quando eri piccolo piccolo Esatto Quando avevo ancora Uno o due anni Mi sa E poi 2003 Ci siamo effettivamente Trasferiti A Bolzano Esatto Quindi tre anni Non quattro Perdonami Poi ci siamo trasferiti là Tutti quanti E da lì Sono cresciuto a Bolzano E poi ogni tanto Andavamo giù a Napoli E hai fratelli e sorelle Sì Io ho un fratello Una sorella Vabbè Mamma mio padre Tutti e cinque Sono a Bolzano E infatti Il primo ricordo Che ho di Bolzano Era praticamente Noi che Arrivavamo Dall'autostrada Sì E arrivavamo a Bolzano E la prima casa Che abbiamo avuto a Bolzano Mi ricordo ancora La via Che non starò qua a dirla Però Praticamente La casa era Letteralmente Ti giuro Penso Più piccola di sto salone Mi sa che era un monolocale C'era Il letto Che praticamente Usciva dal mobile E davanti a questo mobile C'era la cucina però Caspita Il bagno era dietro la cucina In cinque E noi dovevamo Tutti e cinque Su quel materasso Perché alla fine Eravamo tutti piccoli Tutti e cinque Su quel materasso Ci siamo poi Trasferiti Dopo tipo Ma lì ci sia stati poco In realtà E poi siamo andati Nella casa Che abbiamo tenuto poi Finché poi io non sono venuto Qua a Bucharest Sì Sì Anche lì il ricordo Era di Noi che prendiamo la macchina Andiamo via da quella casa E entriamo in questa casa Che per me era Gigante considerato Certo Dove eravamo stati Sì poi siamo rimasti In quella casa Che tra l'altro fa ridere Perché la casa La nostra Perché in Italia C'è sta roba Di fare il mutuo Sì La casa dove stavamo Noi a Bolzano Dove stanno ancora i miei Non è neanche il mutuo Allora è affitto da tipo Sono ancora in affitto Sono ancora in affitto Infatti io Crescendo che ho capito sta roba È Ho detto minchia Ma come È d'accordo Sono ancora un accordo Alla fine Non sto io a dire Cosa dovete fare voi Però Dico minchia Cazzo dieci anni Comunque Un po' di soldi Ti sei dati Sì sì Capito Dipende se è una situazione stabile O se hai dei progetti Di spostarti Esatto Quindi poi hai fatto le scuole Di a Bolzano Immagino Fatto tutte le scuole Di a Bolzano Che ricordo Di quelli anni lì All'asilo tutto bene Soprattutto io ho fatto Tanta amicizia Cosa che mi è sembrata strana Poi più avanti Ho fatto tanta amicizia Con la mia vecchia insegnante All'asilo di tedesco E perché è strano Perché poi Arrivando agli elementari E poi alle medie Ti rendi conto Che le maestre Quelle così Quelle tipo di tedesco Di lingua eccetera Ti guardavano un po' male Su ste robe Perché Almeno prima Essere di giù Era un po' come adesso Che attaccano X tipi di persone Prima era lo stesso Seri di giù Ma non di Napoli Seri in generale Del sussuolo Era brutto Quindi gli stessi professori Soprattutto Esatto No sì sì Cioè l'insegnante alle medie Che lei era letteralmente Persino più in giù di me E lei ce l'aveva con me Mi fai perché te sei di giù E tu mi chiamai Anche te sei di giù No è brutto Perché poi a scuola Sei la maestra Vista un po' come l'autorità O al professore Quindi anche agli alunni Sì sì E mi ricordo che Ad esempio L'elementare Io andavo all'elementare Nella stessa scuola Nella quale Mio fratello e mia sorella Andavano alle medie Sì E mi ricordo che Praticamente mio fratello E mia sorella Avevano sto stesso professore Che tipo Li sfotteva Però in modo più amichevole Del fatto che erano di giù Tipo dei miei compagni di classe Sentivano sta roba Ha iniziato a farlo Però non in modo Come tipo il professore Con mia sorella e mio fratello E quindi era proprio Era proprio E poi è arrivato un giorno Aveva anche tipo la mia maestra Di matematica Mi ricordo Iniziava a fare quelle battutine così Che non erano le battute Ah no Sennò poi le danno di merda Ci vedate Esatto Sì Quelle cose che poi Crescendo giustamente Inizia a dire Minchia ma Che cosa ho fatto Che cosa ho fatto Io ho capito Certo E invece con gli alunni Hai iniziato a cambiare Dalle superiori Perché in prima e in seconda Superiore Tu eri in questa classe E facevi tutti e tre i laboratori Quindi sala Ricevimento e cucina Poi dalla terza in poi Tu facevi solo quello Che ovviamente Ti interessava Certo Io ho scelto sala ad esempio E quindi ho fatto due anni Con questi ragazzi Di sta classe Che mi hanno aiutato tanto A crescere a livello di Proprio di Mezza maturità Perché ovviamente Non ero ancora maturo E poi vabbè Dalla terza fino alla quinta Sono maturato molto Le medie però Mi ricordo che Con i miei compagni di classe Non c'era tanto sta roba Però con gli altri ragazzi Della scuola sì È veramente facile Adesso fare il paragone Perché dici Guarda adesso Come fanno ad esempio Con qualcuno straniero in Italia Che quando fa qualcosa Subito viene messo sotto il riflettore Stessa roba prima serie di giro E io lo dico Non perché succedeva a me Ma perché avevo letteralmente Un altro amico in classe Che lui era pugliese E succedeva la stessa roba Alle medie Mi hanno avuto tanti problemi Sia per questa cosa Sia per come sono io Perché nel senso A livello di attenzione Eccetera Non sono proprio il top Come mai? In giudice sono di anni osticato Però in realtà è perché Anch'io non ho tanto Mi rendo conto Che io ho focus Solo Nelle cose Che veramente mi interessano E veramente Che sono importanti per me Nel senso che Penso che sia un discorso Un po' alla fine Per chiunque Però mi rendo conto Che se una cosa Non mi interessa Ma proprio neanche un minimo Te puoi letteralmente Magari parlare E mezzo secondo dopo Io faccio un'altra roba Perché non mi interessa Ma in che senso Ti ho diagnosticato una Io sono diagnosticato DHD Di subito dell'attenzione Per attività Ok E questa cosa in classe Quando ero piccolo Minchia ero La sapevi già? No non lo sapevo L'ho scoperto tipo Alle seconda media Alle medie? Sì sì Prima media Seconda media Era complesso all'inizio Dicevi perché non te la spiegavi? No 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 A me Per me è sempre stato normale Sai Infatti è una roba Che io anche a mia mamma Ho detto Voi siete più preoccupati E investiti in questa cosa Quanto lo sono io Sì E sono io Il capito Quello a portarmela Però sì Perché altro Perché ovviamente C'era anche sempre Sta cosa Del se c'è casino in classe È sempre colpa mia Perché Perché te sei così Ah te No sei stupido Perché te sei così Oppure io scrivo male Ad esempio Ah no Sono disgrafico io Ah no È perattivo Ah non fai questo Ah sai scrivere male Ah non sai fare niente Perché sei così Ah perché forse voi Napoletà Tutto che si sommano Sì sì Ma neanche tutto che si sommano È proprio C'è chiedertimi Che arrivano da tutte le porte Come si diagnostica La DHD Cioè tu hai notato questa cosa E te l'hanno fatta notare agli altri No no Me l'hanno fatta notare agli altri Ma perché praticamente Ti fanno un po' di domande E poi ti mettono davanti A degli scenari Cioè fanno tipo un test Che è ben complicato Infatti non riesco a spiegarlo Ok Però fanno bene un test Che è complicato E da lì Riescono a capire come sei Perché ovviamente Vedono pattern E cose varie Secondo me tu sei Tutt'altro che De focalizzato Cioè come hai detto Tu ti focalizzi molto Su quello che ti frega Esatto esatto Io mi focalizzo solamente Su quello che mi interessa Infatti tante volte Ad esempio in questo periodo Che adesso fa caldo Che io ho caldo Il mio interesse è Voglio stare al fresco Io a lavorare Non riesco a lavorare bene Certo Perché non sono per niente concentrato Cioè sembra stupido Ma è così Io sono focalizzato Solo ed esclusivamente Nelle cose che mi interessano E per farmi piacere le cose Per fare iniziare Questo processo Di inizio a interessarmi Devo stare chiuso A guardarmi robe su robe Anche quando non voglio E poi pian piano Inizia a venirmi l'interesse Tutte queste cose qua Sai Quindi crescendo poi Questa cosa è diventata Cioè per te è sempre stata normale Però gli altri Ti hanno mai messo in difficoltà Per questo Hai avuto delle situazioni Più difficili Allora In prima e seconda superiore Nonostante i miei compagni di classe Mi avessero fatto maturare Di più È stato proprio perché Mi hanno messo tanto in difficoltà Con questa cosa Tu sei maturato Perché ti ha messo in difficoltà Io sono maturato tanto Perché sono stato messo tanto Ma proprio tanto Bastolato Esempio io in classe Lo ammetto Tipo il primo anno Io non sapevo perché Era una roba che io ho sempre Rifiutato Mi ama perché mi sono sempre Incazzato Era avere L'insegnante di sostegno Ah sì? Sì sì perché io È vero Per carità avevo questi disturbi Ma io in classe Ho sempre performato Non dico meglio di tutti gli altri Ma ho sempre dimostrato Di essere molto più sveglio Rispetto ad altri Che magari non facevano niente Però io decisi proprio Di toglierla sta roba E loro ad esempio Da L'insegnante di sostegno È stata letteralmente Tre giorni E tipo io avevo le verifiche Uguali E quello guardava La mia verifica E diceva Ah no ma la tua è semplificata Perché te sei così Non è che è facile dire No non mi interessa Specialmente a quell'età Però iniziavo a dire Oh magari Magari ci sta Io sono così Devo accettarlo E basta Cioè perché devo dire No sono normale Quasi ti convincono Che sia così Dico la notte Sei stupido Perché sei così È difficile reagire In quel mondo Esatto Ho detto sai cosa Invece che reagire Il mio reagire È ci scherzo su Ok Solo che Ho imparato che tu Anche se ci scherzi su Su ste robe Poi lo scherzo Inizia a diventarti in realtà Noi alla fine sappiamo Le robe di Siamo quello che ci diciamo Ste cose qua Però quando sei più piccolo Non te ne rendi conto In realtà è proprio Quando sei più piccolo Che ste robe hanno più influenza Come no Capito E quindi Io dicevo Sì sì è vero Io sono stupido Sai ste cose qua E poi arrivi ad una certa Che dici Minchia ma se veramente Di cosa sono ste cose Se veramente sono così Poi dal terzo Sono cambiate tante cose Perché ho cambiato Ho cambiato classe Ho fatto esperienza Ho fatto esperienza a livello E quindi ho capito Come era il mondo del lavoro Ho capito come dovevo essere io Io mi vedevo a fare Il mega carrierone A lavorare là A lavorare là Mega curriculum Adesso mi fa ridere come cosa Perché ci penso Però prima era una roba Che prendevo serissima E infatti poi Dalla terza È iniziato tutto Quella roba di Sai quando iniziano Quei periodi Dove inizia a capire Che non sei la persona giusta Non riesco a essere me stesso Devo fingere Perché se no poi Se non fingo Gli altri dicono Cazzo sei silenzioso Cos'hai Si stai vivendo la vita Di qualcun altro Esatto Inizia a crearsi Tutta una identità falsa Capito Esatto E prima o poi crolla E quando crolla È brutta come cosa Questa cosa Quando è che è iniziato a crollare Non è mai crollata Fino al 2019 Cos'è successo Poi alla fine della quinta Ho conosciuto una ragazza Ok Con questa ragazza È stata la prima volta Che mi sono sentito Io Mi ho fatto Quarta e quinta Single Sì La quinta Quando ho conosciuto lei Mi ha preso In un modo un po' particolare Era una roba Che non avevo mai trovato Perché io ero sempre Quello che ascoltava Parlava per far ridere Ma non avevo mai nessuno Che mi ascoltasse Con lei mi sentivo Proprio bene L'ha liberato Ok E stava poi È crollata Perché Perché poi vabbè Mi fidanzo con questa ragazza Era a giugno Lei un giorno Completamente a caso A luglio Se ne esce con A se io vado in America Ah E io giustamente Dico Ah ci sta Andrai una settimana Andrai un mese In vacanza E mi fa No no Io vado sei mesi Lì Sei crollato Lì è iniziato il crollo Però Ha iniziato il crollo Che Cioè non è che è iniziato Ha fatto proprio Bam È sceso subito Ok È iniziato proprio Il grafico a scendere Era un po' la tua colonna Portante Sì Perché avevo solo lei Cioè anche gli amici che avevo Sì erano persone che Ritenevo amiche Però non parlavamo mai Di robe più profonde Cioè ad esempio Con tante persone qua Con cui esco E anche quando abbiamo parlato Noi eravamo Abbiamo parlato di robe Importanti Profonde E queste sono cose che ti fanno dire Questi sono amici Cioè noi che parliamo di come Vogliamo arrivare ai nostri obiettivi Dei problemi che stiamo avendo Quelli sono Ci aiutiamo a migliorarci a vice Esatto E andiamo in profondità Non perché parliamo solo Delle cose belle No no Cioè anzi Anzi quasi mai Di solito C'è cose più Esatto E solviamo i problemi Esatto E il problema è stato che Io avevo solo lei Parlavo solo con lei Però avevo comunque Il fatto di Io so come sono Quando sto con una persona Sì E quindi sono disposto A fare le videochiamate E tutto quanto Perché torni Ti aspetto Il fatto è che Noi abbiamo passato Da quando me l'ha detto Al 15 di agosto Che lei è partita Tutti i giorni assieme Quindi si è aumentata Ancora di più È aumentata ancora la roba Perché stavamo tutti i giorni assieme Stavamo assieme Dormivamo assieme Che poi quando si è andata A me ma proprio È stata la prima volta In vita mia Dove io ero proprio triste Da quel giorno in poi È iniziato il declino In che modo Io ho detto Voglio fare giugno Luglio agosto Liberi Perché poi da settembre Io lavorerò Per tutta la mia vita Perché farò il cameriere Tutta la vita Farò solo quello Volevi fare il cameriere Io volevo fare il cameriere Perché a me piaceva farlo Cioè sembra a me piaceva Proprio a me Sì stuola Cioè io per quello Quando venite voi Voglio cucinare Voglio fare Perché a me piace Il problema è che A settembre Io devo trovare lavoro I miei amici trovano lavoro E iniziano a farmi pesare La roba Che io non riesco a trovare lavoro Non trovo lavoro perché Perché mando curriculum in giro In un albergo Vicino casa mia Di cui io non farò il nome Loro hanno avuto La faccia tosta Veniremi Napoletani non ne prendiamo Perché ne abbiamo già avuti In passato Ammazza Anche lì E non vogliamo Avere Problemi Questa cosa mi ha fatto Ritornare in mente Quando io Quando ero piccolo Evitavo di dire Che ero napoletano Perché avevo paura Del giudizio Del giudizio Di non essere accettato Questa roba Me l'ha fatta tornare subito Ma è possibile Che non posso trovare lavoro Io che ho Il B2 di tedesco Parlo perfetto l'inglese Ho lavorato In uno dei migliori ristoranti In Italia Con raccomandazioni Dal miglior ristorante in Italia E veramente Io non posso lavorare Perché sono napoletano E sta roba Ad esempio Me non la sanno Cioè me non ho mai detta Questa cosa Mi ha pinto A dire ok Devo trovare altri posti E un giorno Mia mamma Mi manda un annuncio Di un locale in centro Dove abitavo io Io appena sono andato Mi hanno detto Vogliamo prenderti E io da lì ho iniziato Poi a lavorare A settembre Cioè adesso ti faccio capire La situazione Io dal 16 di settembre E la tua ragazza Non c'era ancora Esatto Lei tornava a giugno Io dal 16 di settembre Al 26 di dicembre Non ho visto la mia famiglia E io vivevo con loro Perché io ero Il giorno e notte Al ristorante Caspita Questo ha fatto partire E un processo di down Mio incredibile Come mai? Perché praticamente Io in quel periodo Ero investito mentalmente E anche un po' Monetariamente Nella musica Volevo fare musica Investivo nei programmi Registravo E tutto quanto Succede che Verso ottobre Mi chiamano per dire Vara La gente vuole sentirti live Ho detto Minchia Caspita Che musica facevi? Faccio rap Scrivevo Io facevo freestyle Da quando ho 9 anni Io per quello sono così Appassionato di musica Io a Borsano Sono conosciuto per questo Vado a fare il concerto Un sacco di gente Che vede a guardarmi Inaspettatamente Io contentissimo I miei amici Non sono lì Quella sera Non è con il problema Il problema diventa Quando uno dei miei Migliori amici Mi scrive Grande sei stato fantastico E io ero in quel periodo Dove mentalmente Ho detto Cazzo Ma Io non voglio questa gente Stavo iniziando a vedere I post di obiettivo un milione Dove c'era scritto Non devi avere Gli amici che non vogliono Il tuo successo Così Te l'ha detto Solo per farmi Per farmi il contentino A me sta roba Ha scazzato Mi ha iniziato a dare fastidissimo Da lì Litighiamo Rompiamo Nel giro di una settimana Tutti i rapporti Io e gli altri E io da lì ho Completamente Rotto Le uniche Amicizie Che io avevo Diciamo che è stata però La goccia Che ha fatto traboccare Bravo Inoltre cosa succede Praticamente io avevo Ovviamente al mare E se sei di Napoli Vai al mare in Calabria Ok Faccio amicizia con questo gruppo di ragazzi Tutti quanti erano di Napoli E c'era questo amico mio Di cui io ero Era tipo il mio miglior amico giù Parlavamo e tutto quanto Praticamente Verso novembre così Succede che lui Continua a chiamarmi Continua a chiamarmi Per tipo una settimana E io gli dico Guarda Anto Non riesco a rispondere Perché sto a lavoro Calcola che facevo Dalle undici di mattina Fino alle tre di pomeriggio Tre e mezza Al ristorante Riattaccavo alle sei e mezza E finivo a mezzanotte Tutti i giorni Tranne la domenica Praticamente lui mi chiamava Dico guarda Non posso rispondere Non posso rispondere Ci sentiamo sti giorni Mi richiama Il giorno dopo Mi richiama Mi richiama Gli dico Fra sto andando a lavoro Ti richiamo quando esco Me la ricordo bene sta roba Perché io proprio Non ho neanche Detto ciao Ho detto Ho detto Anto guarda Io attacco Sto entrando adesso Il ristorante Ti chiamo dopo E l'unica cosa Che ho sentito La parte sua fu Va bene Fine Attacco Cosa succede Che esco da lavoro Mi dimentico di chiamarlo Si Dorma Vado a lavoro La mattina Torno a casa Vado a lavoro Il pomeriggio Ok Pioveva Apulzando pioveva Faceva freddissimo Mi ricordo che ero sotto i portici Davanti al negozio Poco prima di entrare al ristorante Mi arriva una chiamata Che era lui Io rispondo alla chiamata E non è che mi ha risposto Anto Sento Sento Wey Giacomo Sono Anna Che Anna era la mamma di Antonio Ah Praticamente mi fa Sono Anna E inizia a piangere Cos'è successo? Cioè Sarà male? Starà male? Boh Avranno fatto Sarà successo qualcosa? Lei mi fa Mi fa già come ti devo dire una cosa E tu dimmi Anna Mi fai Antonio si è ammazzato Minchia Ti giuro Me l'ha detto Quando io ero Cioè immagina Qua c'è il ristorante Io ero qua Davanti all'entrata del ristorante Ho guardato la porta Per entrare al ristorante Così Ho detto Mi fa sì sì E continuavo a piangere E io volevo parlarle Ma avevo davanti il mio capo Che mi fa Dai dobbiamo andare Dobbiamo andare Sare a cambiarti Allora Mi ha detto Anna Ti richiamo Ti richiamo stasera Lei continua a piangere Attacca Cosa pensavi in quel momento? Non pensavo letteralmente a nulla In quel momento pensavo solo a La mia vita è una merda Dice Minchia ma che vita sto facendo C'ho la ragazza che è in un altro paese L'unico L'unico amico mio che ho Che poi Quelli al mare Sai sono anche Cioè Sono anche amicizie più belle Perché sono quelle che non vedi mai Certo certo Ho detto Poi si è ammazzato E tu minchia neanche la No ammazza Si è ammazzato E sta roba del si è ammazzato A me Tutto oggi Rigira in testa Perché c'è sempre il Magari io non potevo fare niente Però Rispondevo e parlavamo Magari cambiava qualcosa Perché poi Ci sta Aveva Aveva la ragazza Cioè I motivi Non dico li so Però So anche Quello che è successo Cioè io non è che dico Ti facevo da psicologo Però minchia Magari sai Dicevi almeno c'ho lui Secondo te Perché aveva chiamato te Eh perché Perché lui parlavamo spesso Sai Si voleva confidare Secondo me sì Secondo me sì Cioè C'hai mai pensato Ti sei fatto una Eh Me lo chiedo sempre Io Me lo chiedo sempre Io I momenti peggiori miei Sono quando io lavoro Fini a tarda notte Anche che lavoro bene Ti giuro Sono i momenti Dove io mi faccio Tutte queste domande Perché sai La sera Quando lavori Sembra un po' Un vibe figo Che magari sono le tre Hai finito di lavorare Tutti dormono Tutti dormono Dici cazzo Io sto costruendo Poi ti dici Cazzo ma Quella sera Se avessi risposto Cosa sarebbe successo Sai quando dicono Ci state Lo chiedi A me proprio tormenta Cioè io La notte a volte Proprio non dormo Mi sveglio Perché Perché ste robe Si fanno proprio strada Mi scioccano Certo Adesso sono Confidente nel dire Che non se ne andrà mai Via sta roba Ma perché secondo me È impossibile che se ne vada E come la stai gestendo adesso Giustamente la sera Io ci penso Sto veramente tanto male Però dall'altra mi dico Alla fine Cosa potevo fare Però adesso cosa posso fare Niente Pensare a quello che Potevi fare in passato Perde senso Non puoi più tornare indietro Basta In alcune cose puoi Ma in altre cose no E in queste cose non puoi Quando succede la sera Io ci sto veramente tanto male Ma proprio Veramente tanto Ma perché giustamente Sono cose che segnano Sai Sono cose che Segnano E che insegnano Infatti da quella cosa Ho smesso completamente Di dare per scontate le cose Per me anche uscire Siamo in monopattino E giriamo Io sono cose che me le godo Veramente bene Perché so Che non è Non è scontato Perché so che magari Domani Capito Può cambiare tutto Ti ha cambiato Prospettiva della vita Mi ha cambiato tanto Prospettiva della vita Però mi ha fatto anche dare Una svegliata Un motivo del perché Io stavo male Era perché La mia ragazza era in America Io questa cosa Gliel'ho detta Gliel'ho detta un po' più avanti Io non le ho detto Guarda Mi è morto un amico Però Le ho detto Guarda È un periodo di merda Io sono sempre a lavoro Io e te non ci sentiamo mai Non vedo la mia famiglia Non c'ho più gli amici Non ho più una vita sociale Sono sempre a lavoro Quello che faccio non funziona Avrei toccato un po' il fondo No Ma neanche un po' Io ero sotto al fondo E il sotto al fondo è stato Quando poi ci siamo lasciati Me le ho detto Guarda Io voglio Stare bene E so che Se te stai lì Io non riesco a stare bene Perché so che poi Faccio stare male te E abbiamo preso tutti e due la scelta Tu Stai lì Io sto qua Quella è stata veramente L'ultima botta Io mi ricordo che quella sera Andai a casa Che ero veramente messo male E mi ricordo che mi misi a piangere E mi disse proprio Ma perché Non c'ho una vita normale L'ho detto Forse Se vado a trovare la mia ragazza Magari le faccio una sorpresa Torniamo assieme Sto meglio Però I biglietti vanno ad andare In America Costano Certo E io Mi lavoro al mese Diciamo Mica Prima che ho i soldi Vanno ad andare lì Lei torna E allora è iniziato a dire Cavolo devo fare un qualcosa Che mi faccia Fare più soldi Io da dicembre A gennaio Mi guardo Tutti I video Possibili Immaginabili Di Come fare soldi online Tutto Quindi è stata un po' quella La tua reazione Il motivo del perché Io ho iniziato a fare business È perché io volevo avere i soldi Per andare a trovare La mia ragazza in America Io non sono cresciuto In una famiglia povera Però siamo cresciuti In un posto dove Non andavamo al ristorante Ogni settimana O ogni mese Dove Il nostro Wow Era andare al McDonald Come con la famiglia Dove non andavamo A viaggiare fuori Le scarpe Avevo sempre le scarpe Sottomarca Avevo sempre i vestiti Sottomarca Venivo sfottuto per i vestiti Sottomarca Quindi non è che Dico eravamo poveri Però è ovvio che avevo La roba di dire Cazzo Voglio prendermi le robe Voglio fare questo Voglio farmi le vacanze Voglio avere soldi miei Quindi eri già Diciamo verso l'obiettivo del business Non avevi la minima idea No Io non ero l'obiettivo del business Io ero l'obiettivo di Voglio lanciare qualcosa In dropshipping Ma non so come fare Perché non ho il tempo Per starci dietro La tua scelta è stata Un po' il dropshipping Però poi La mia scelta è stata Senza agire Diciamo Esatto La mia scelta era stata Il drop da gennaio E poi ho detto Da gennaio A febbraio Stavo vedendo così E poi fine febbraio Marzo Quando è stato Che ci hanno chiuso in casa E mi ricordo che io il 20 di marzo Ho comprato il corso di Samuele Ferrari per il drop Sì Dropshipping keys Quel corso è stato il corso che ha Diciamo gettato tutte le basi Che poi mi sono servite nel fare drop Perché sai Inizia a vedere come si fanno i prodotti I siti Tutte ste robe qua Testo Non cambia niente Testo non cambia niente Testo non cambia niente Per due mesi Testo non cambia niente Testo non cambia niente Arriva un giorno dove tipo io Testo Questo era fai Io da marzo a maggio Ho testato come un animale Quindi lanciavi store prodotti Lanciavo store Lanciavo store prodotti E tipo ho speso 3000 euro E lo finanziavi con? Con lo stipendio Da cameriere Sì sì Zero Proprio Neanche la vendita Ecco per dire Minchia funziona Zero Praticamente un giorno Sempre dal corso Io studio E lancio sto prodotto Che era tipo il portaspazzolini Con il portantiflì Tipo mi sveglio la mattina Avevo fatto tipo 140 dollari Ho detto Minchia io lascio il lavoro Ti giuro Io lascio il lavoro Quanto tempo era passato Hai detto dal primo prodotto? Tipo due mesi Ho raggiato il primo prodotto A marzo Ho fatto marzo Aprile Maggio Giugno A fine maggio Quindi fai tipo il 28 maggio 29 maggio Spesi Antisoldi? Tipo 3000 euro 3000-4000 euro Che ai tempi erano tantissimi Minchia Era tutto Stai scherzando Era tutto per 3 Perché io avevo magari 2500 Spendevo Poi altri 1500 Spendevo Tutto Quindi io trovavo Tornavo a zero Succede che Che io tipo Avevo una situazione a lavoro Dove era stressante Perché Mi chiamarono A aprile Per andare a fare delivery Ma io non volevo andare Di sai cosa Io voglio stare a casa A me piace stare a casa Mi piace stare al computer Io mi focalizzo qua Allora quando torno Loro dicono Sai cosa Tu adesso ti fai 7 su 7 Ho fatto 7 su 7 Questa roba Mi ha fatto dire Il 2 giugno Il giorno che mi sono svegliato Avevo fatto 600 euro In De fatturato Non di profitto De fatturato Ho fatto 600 euro di fatturato Con 500 dollari di spesa Tipo in 7 giorni Così Ho detto Sai cosa Ho detto Adesso mi licenziò La mattina sono andato al CAF Mi sono licenziato 2 giugno è stato il giorno Che ho dato le dimissioni 30 giorni di preavviso 2 luglio Ultimo giorno Diciamo marzo maggio Conosco quest'altra ragazza Ok Questa sarà la mia ragazza Per i prossimi 3 anni Sì Lei la conosco Il momento in cui Io sono sempre stressato Sempre sotto stress Cerco di far funzionare Il business Lei mi vede Che sono tutto strano Sai poi all'inizio E sappiamo quanto è pesante Per funzionare Sai quando sei casato All'inizio Che dici Ah doccia fredda La faccio Ah quasi la faccio Lei neanche diceva Sono fredda Diceva Ci stava a fallo Ti appoggiava comunque In questo modo Mi appoggiava Diceva ci sta Ok E quindi giustamente Lei vedeva Che io ero Sempre stressato E mi fa Te ne devi andare Cioè tu non puoi stare qua A vita E vuoi fare il business Vuoi fare quello Ho detto io Voglio Fare dropshipping E vivere online Cosa ti spingeva A prendere questa scelta Mi spingeva Il fatto che io Vedi i soldi Io prima ragionavo Senza voglio fare X soldi al mese X soldi l'anno Dicevo io voglio la vita bella Ma non voglio lavorare In un posto Tutta la mia vita Ok Sai che adesso la vendono Ah non vuoi avere capi A me hanno venduto così Ma perché io credo in sta roba Nel non avere capi Credo nel Sei il padrone del tuo tempo Io credo in queste cose Io ho comprato per questo Questo mio Voglio dare all in Mi è servito veramente tanto Anche in futuro A capire Cazzo devo andare all in Se voglio ottenere le cose Perché l'ho fatto una volta Posso farlo altri 10 15 20 All'infinito Poi quando Luglio 2020 A giugno 2021 Il business diciamo Inizia a spingere Inizio a fare Quei primi 1.200 2.000 3.000 euro al mese Il mio record fu 5.000 euro al mese Comunque Ti fermo Il passaggio prima di raggiungere Questi risultati Qual è stato E soprattutto Da quando lavoravi Come cameriere Hai fatto 600 euro In una notte In un giorno No 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 600 euro in 7 giorni Fatturato E hai mollato il lavoro Esatto Hai detto vado lì in su Sì 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 Ne parlavi con i tuoi genitori Tu vivi in casa Sì sì no I miei mi hanno sempre visto Studiare e basta I miei non sapevano niente Mia sorella sapeva qualcosa Mia sorella e mio fratello Però quando ti sei licenziato L'hanno visto Ah cioè no Glielo ho detto E loro? Io mi licenzio Mi fanno perché Ho detto voglio fare questo Mi fanno Ma sei sicuro Ho detto sì sì E ho detto no no Ma sta già partendo Sta già andando bene Se no ti pare Che il mi licenzio E non so come vanno le cose Non ti ha messo i bastoni Tra le ruote All'inizio volevano farlo Però me l'ha detto mia sorella Che mi fa che Quando mia sorella ha aperto La partita IVA Mio padre non le ha parlato Per una settimana E infatti ha fatto lo stesso con me Quando mi sono licenziato Mio padre era scazzatissimo con me Però tua sorella un po' Ti ha spianato la strada magari Mia sorella No no mia sorella Io la ringrazio sempre Ma perché Io ho il mindset Che adesso Io me lo sono fatto Perché ho sofferto tanto L'ho sempre detto Io prima ero Ero proprio la persona Che amava essere la vittima Amava essere depresso Amava Cercavi un po' attenzione Sì Di brutto Di brutto Adesso che ci penso Di brutto E invece Valeria mi fa Ma te cosa vuoi fare Cioè se hai vent'anni Che cazzo vuoi fare Cioè se non fai adesso Quando lo fai Quando me l'ha detto Ho preso il corso Poi me l'ha ridetto Ho detto mi licenzio Sì sì Ma infatti mi ha salato E mio fratello Mi hanno sempre appoggiato Mi fanno finché Stai bene Noi stiamo bene E quindi sì Il passaggio È stato veramente Tosto dirlo Dirlo a mio padre Mia mamma Diceva Vabbè ci sta Sono contenta Cioè alla fine Fai quello che vuoi Basta che stai bene Come l'hai detto A tuo padre invece No no Io ho detto Ho detto sentite Io domani mi licenzio Ho detto che a voi piaccio O meno io domani Mi licenzio Ah mi sono licenziato E da lì poi è partito Diciamo tutto il mio Percorso Imprenditoriale E quando ti sei licenziato Hai detto vado lì Sul dropshipping Yes E qual era La tua giornata Cioè come sono state le azioni Secondo te adesso Con la consapevolezza di oggi Che ti hanno portato Da 600 euro In una settimana A cosa che hai detto 5.000 Sì sì 3.000 5.000 a mese Sì Eh a quei periodi Penso che In realtà Io ero tanto investito Nel hard work Hard work Hard work Come mai Perché dicevo Cazzo mi sono licenziato Adesso ho tutto il tempo Per fare quello che mi piaceva fare Quindi ho tutto il tempo Per stare a casa E non fare niente Volevi anche dimostrare A qualcuno Che ce la facevi Sincero La roba del dimostrare Volevo dimostrarlo Sì Ma in modo Cioè volevo dimostrarlo Dimostrandolo a me stesso Adesso io E' solo dimostrare a me stesso Adesso io E' dimostrare a me stesso E dire Hai visto che sbagliavi Su di me Vuol dire Tu credevi che io Non fossi in grado di farlo Io sono sicuro Al 100% Di essere in grado di farlo E lo faccio così Tu vedi che io posso farlo Certo Vuoi far cambiare prospettiva Alle persone che prima Esatto E quindi sì Volevo farlo Volevo prima di tutto Far vedere alla mia famiglia Che potevo farlo Sì E poi sai alle persone Tipo ai ragazzi Ai vipettini Sai il solito gruppo di nuti Che stanno in tutte le città Certo Il periodo dai Te ripeto 600 ai 5000 Quanto è durato? Durato tanto È durato fino a dicembre Gennaio Febbraio Dell'anno dopo Mesi Sì 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 È durato proprio mesi Ti alzavi Spingevi Cercavi Io mi alzavo Davo in ufficio di mia sorella Lavoravo E tipo la notte Io finivo a mezzanotte Luna Tornavo Lì in ufficio Stavo fino alle due e mezza Tre quattro e mezza E tornavo a casa Caspita Te lo chiedo perché È lo stacco un po' da terra Iniziale E volevo Trasmettere con questa domanda Qual è l'approccio Che bisognerebbe avere Verso questo aspetto Secondo me l'approccio Che bisogna avere È quello che ti fa stare peggio In che senso? Sembra stupido Ma anche guarda il tuo percorso Se tu all'inizio Perché ne abbiamo parlato io e te Di sta roba Sì Tu mi fai che all'inizio Tu lavoravi Allo stesso tempo Lavoravi sul tuo business Sì sì Lavoravo in ufficio E tornavo a casa alle 7-8 Mangiavo doccia Business Fino alle 2 di notte Questa roba però Ti ha fatto dire Cazzo sto lavorando Oltre il mio orario normale Sto dormendo poco Sto dormendo di merda Mi sto rovinando Perché voglio farlo funzionare Certo Tu prova a immaginare Se tu Avessi lavorato Che ne so Avevi due giorni liberi a settimana Lavoravi solo Lavoravi solo Quei due giorni liberi a settimana Dormivi normale Facevi tutto il resto normale Tu Potevi mai avere la voglia Di dire Minchia Devo farlo funzionare Perché mi sono rotto il cazzo Di fare sta vita No 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 Io per quello lo dico Per quello io dico Bisogna stare male Perché quando tu stai male Stai nella condizione mentale Di dire Oh io devo darmi una svegliata Io quando ero in quel periodo Dove ero Veramente messo male Dove io Lo ammetto Io volevo veramente ammazzarmi Cioè io veramente Ci ho pensato tante volte Io minchiaio Io ero in quel periodo E dicevo Cazzo Io voglio uscire da sto periodo Ci hai pensato Perché L'hai vista come la soluzione Anche che aveva preso Il tuo amico Un po' Un po' Perché ho detto Magari sa L'aveva tanti problemi E magari L'hai considerata come opzione Sì E te cosa hai fatto cambiare Invece Non l'ho mai voluto fare Sincero Sincero anche per la tipa Pensa Quanto sta male La reazione che avrebbe Sì Ti giuro No io ti giuro È stata una cosa Che mi ha fermato tanto Questa è una roba Che non ho mai detto a nessuno Però sì Quello è stata È stata una di quei motivi Che mi ha fatto dire Sai cosa Magari Devo evitare Ho detto Cazzo Se faccio sta roba Lei poi chi ha Che l'aiuta Nessuno Ho detto Quindi devo Non posso farlo Ti sentivi responsabile Esatto Poi da lì È nata però La tua reazione Verso il business Esatto E quindi ti ha portato Su una rotta diversa Mi ha portato Su una rotta diversa Perché ho detto Cazzo Devo riprendere in mano La mia vita Posso riprendere in mano La mia vita così E grazie a Dio Avere i miei Che mi hanno sempre detto La roba del lavoro Mi ha fatto dire Devo prendere in mano La mia vita E so Che per prenderla in mano Devo lavorare Perché so Che se inizio a lavorare Tutto quanto inizia Ad andare bene Questa è stata la cosa Che mi ha aiutato Perché ho iniziato a lavorare Mi hanno messo In una situazione Che mi faceva schifo stare Perché stavo male Ma stavo male anche fisicamente Cioè io minchia Non dormivo E quindi questa cosa Mi ha fatto dire Oh devo lavorare Devo spingere assolutamente In tutti i modi Devo uscirne Devo uscirne Ma non sei all'angolo Devi reagire Eh sì perché Sennò poi cadi E poi sei sempre in quel punto E se ci finisci Quattro, cinque, sei volte Non hai certo Affidati che molli Per forza Da gennaio, febbraio Che sono iniziati a fare Cioè che Che i mesi sono andati meglio Dopo quei tre e cinque mila Poi ci sta Facevo mesi di meno Mesi di più Mesi di meno Mesi di più Aprile mi andò super bene Ma Iniziò una fase Nella relazione Con la mia Ragazza Che era un po' più brutta Perché Perché lei doveva fare il quinto Io la vedevo Che lei studiava tanto Studiava tanto Studiava tanto E questa cosa La metteva sotto pressione Iniziamo a litigare Per le cazzate Per queste cose qua Eravamo arrivati a giugno Lui ho detto Senti Penso che le cose Non vadano così Allontaniamoci Io a giugno Dico Sono single Ormai ho capito cosa funziona Minchia io mi chiudo in ufficio Tanti secondo me Avrebbero detto Minchia adesso mi faccio un'estate Invece aveva detto Sai cosa Mi chiudo in ufficio Mi faccio Dei mesi dove Spingo come un animale Lo faccio Faccio giugno Faccio luglio Faccio agosto Faccio agosto Agosto E agosto Agosto sappiamo tutti Cos'è successo Ad agosto Succede che già a luglio Le robe iniziano ad andare male Ad andare male Ma a livello che tipo Il drop Non so perché Magari testavo Testavo un prodotto al giorno Me ne partivano due Iniziano a partire Mene zero Inizio a perdere soldi Inizio a perdere soldi Testi non vanno Arriva un periodo dove Le robe non vanno Tanti clienti mi chiedono Rimborso Io spendo Per far partire le cose Ma le cose non partono Pago i formatori Ma i formatori Mi danno informazioni Del cazzo E non riesco a far partire Il business Me li trovo a partire A luglio Con 60.000 euro Chiudo Metà agosto Con 4.000 euro In banca Avevi 60.000 euro In banca Avevo 60.000 euro In banca Chiudo agosto Con 4.000 euro Perché Perché l'ultima batosta Me la dà il fornitore Che mi truffa Me la dà il fornitore Che io continuo a pagare Continuo a pagare Su ordini Che non mi aveva mai spedito E ad una certa Mi arrivano un sacco di contestazioni Un sacco di dispute Un sacco di cose A cui devi dare i soldi indietro A cui devo dare i soldi indietro E devo pagare indietro Mi chiudo uno stripe Stripe Carta collegata Ultimi 30.000 euro Andati nel cesso Perché Rebill Automatico dei clienti Persi i soldi Mi trovo ad agosto Ad avere tipo 4.000 euro in banca E prima Avevo tipo 60.000 Senza neanche Un business attivo Bravo Senza Più che i soldi Bravo Hai detto la cosa È che non ne andranno più Hai detto la cosa giustissima Perché dici tu Perdi i soldi Ma almeno sai che puoi rifarli Perdo soldi E a me crolla Tutto Perché Chiudi gli store Chiudi quello Chiudi il contatto col fornitore Chiudi sta roba Dico minchia Come è successo Tutto così in fretta In un attimo C'hai quanto c'è Mi hai messo a costruire questo Un annetto Cazzo Ci ho messo un anno e mezzo A costruire sta roba Ed è andato via Tutto così Compresi i tuoi risparmi Che erano quei 60 Compresi i miei risparmi Cioè io ho perso tutto Cogli ultimi 4.000 euro Mi viene da dire Sai cosa Ritesto Però Quando perdi tutti quei soldi Almeno a me è successo quello Ti senti uno Uno schifo Due Ti vergogni E tre Ti senti proprio sconfitto Perché All'inizio Quando fai queste cose Magari L'avrei fatto anche te Sarà stato anche per te Inizia a misurarti Grazie ai soldi Come no È un po' il tuo livello Punteggio Ed è quello che io Ed è quello che a me non piace Io quello che dico sempre è Non devi compararti alle altre persone In base ai soldi che fai O in base ai beni materiali Perché diventi triste Perché perdi tutto Il fatto è che Dicevo cazzo Come devo rifarli Come posso rifarli Cosa devo fare E un mio amico Mi fa Guarda Ci sta a fare agency Perché comunque hai Prevenibilità Prevenibilità non esiste Però hai il Se io ho 5 clienti Che mi danno 2.000 euro al mese Il mese dopo Farò 10.000 euro Certo Cioè è matematica Certo Hai meno spese Hai meno spese E ho detto sai cosa Posso iniziare Faccio le facebook Cazza di e-commerce Perché alla fine So farle L'ho fatto con i miei soldi Voglio farle Chiudo il primo cliente 400 euro al mese Il fatto è che Lui mi dà sti soldi Ma 400 euro al mese Ma cosa devo fare? Prima di passare al discorso agency Volevo fare Ah sì Il box domande Vai vai Ieri abbiamo fatto la storia Su Instagram Chi non l'ha vista Poi trova in descrizione I link Ai profili Queste qua sono un po' di domande Perché uno si collega proprio a questo discorso Vai Perché non hai continuato con il drop E ti sei sposato sull'agenzia Io volevo continuare con il drop Però Era successa una cosa che ho detto Minchia mi sono scottato Tanto E se poi Dovesse ricapitare Cioè adesso la mentalità con l'agency Di se dovesse ricapitare Partirei da zero Non me ne frega niente Però quindi il drop shipping è diverso Perché nel drop per partire Ti servono soldi E quindi giustamente ho detto Venti caso Fussi arrivato di nuovo a 60.000 Mi veniva di nuovo L'incubo di dire minchia L'ultima volta che ho fatto 60.000 in banca Ho perso tutto Due volte hai toccato il fondo Diciamo Le due volte principali che mi hai raccontato Quale convinzione ti ha aiutato a rialzarti Nei momenti peggiori? Ci tengo a dire che La prima volta che ho toccato il fondo È stata la peggiore a livello mentale La seconda a livello personale Perché nella seconda È stato colpito il mio ego Nella prima è stata colpita la mia mente Io l'idea di Cazzo sono il migliore in quello che faccio Cazzo veramente sono qui per Per cambiare le cose Veramente avrò un impatto Su quello che voglio fare Veramente sono il più forte Veramente sono così Io ci credo Cioè io ci credo veramente tanto E la mia convinzione è sempre stata quella di dire Io non posso smettere per queste cose Perché se no il mio Essere il migliore di tutti Essere il GOAT Che alla gente piace Nessuno potrà mai saperlo Perché io sarò sempre undervalued Capito? Qual è stato il fuoco che ti ha spinto a cambiare? E tuttora ti spinge Sincero Penso sia stato il fatto che Quando non ho visto la mia famiglia Per quel periodo L'abbia presa un po' male Poi adesso vabbè Fa ridere perché adesso abito in un altro paese Però Sai è diverso E anche il fatto di dire Oh io voglio aiutare le persone Il fuoco che mi ha spinto è stato il Io so che se divento una grande persona Posso aiutare gli altri A diventare come me Torniamo al discorso Yes Quindi dici Ok mi approccio al mondo agency Perché mi piace il mio modello di business Voglio testare Yes Cosa fai? All'inizio vabbè Scrivo solo a persone che conosco Che avevano e-commerce Che gestivo le ad e tutto Ma non cambia niente Chiedo solo un cliente Capita per caso Che io Seguo you su Instagram Sì Praticamente Guardo le sue storie E lui mette una storia Dove c'è scritto Il prezzo sale Più 3k Nelle storie Aumento di prezzo Io Leggo la storia Dico Ci sta Più 3k Io ne ho 4 4 meno 3 fa 1 Me ne rimangono 1000 Va bene Ci sto Non è male Il fatto è che Facciamo la chiamata Tra l'altro lui Mi spiega che io con l'offerta che ho Posso comunque chiudere a tanto Entro in chiamata E lui mi fa No Il prezzo non è 3k Il prezzo sale di 3k E faccia Quanto è il prezzo adesso 6000 Ma che c'è Mi chiede Il prezzo Questa qua Quella roba Non so se a you L'ha mai vista Sta roba Però quando me lo disse Io feci Però ti giuro Mi cambiò espressione Tutti che hai già fatto Il viaggio Dello che adesso Comincio Finalmente Spingo Però Troviamo una soluzione Io rimango Con esattamente 30 euro 72 centesimi In banca Questa cosa Sarà un problema Perché io farò Settembre Ottobre Novembre Senza un euro Senza letteralmente Un euro Con 30 euro in banca E come Debiti Ok Gente che mi presta soldi Io che non riesco a restituirmi Debiti Agosto Metà agosto Settembre Ottobre E inizio novembre Dove io Facevo letteralmente Tutto quello che Iubi diceva di fare Manda 100 messaggi Le mandavo 100 Manda 15 collegamenti Ne mandavo 20 Manda 30x Ne mandavo 35 Facevo tutte queste cose Ma vedevo Zero 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 Risultati Torniamo al discorso Di prima Che devi mettersi In una situazione Di difficoltà Ho detto adesso Cosa posso fare Posso solo stare in ufficio A lavorare Perché non posso fare niente Io devo spingere di più Io devo dare di più Mi metto sotto pressione Adesso succede che a novembre Chiudo il mio primo cliente A 800 euro E il primo cliente che chiudo È il mio migliore amico Che mi ha spinto Ad aprire l'agenzia Caspita Capito E lo chiudo Però lì Già lo chiudo Con la roba di Non è più Facebook Ads È email marketing Perché tu eri partito Con l'idea delle Facebook Ads Io eri partito Con l'idea delle Facebook Ads L'idea dell'email marketing Mi è venuto perché Parlando con Iub Vedevo che la gente Alla roba Facebook Ads Non mi rispondeva Nella volta Ad uno Ho detto Proviamo Con l'email Avete un errore nelle email E lui mi fa Ah in che senso Ho detto Cazzo funziona Ho iniziato a mandare messaggi Solo con quello Quindi ho iniziato a interessarti A questo mondo qua Ho iniziato a interessarmi di questo E con gli 800 euro Che mi dà lui Arrivo ad avere 820 euro in banca Con 820 euro Compro il corso Di un americano Che stava a 820 euro Però questa propensione Alla spesa È sempre che io ho detto Mica ma ho 1000 euro in banca 800 euro in banca Ma sono ricco O sono un coglione Se non li spendo Per qualcosa che mi può portare di più Magari è un rischio Che io lo vedi in modo diverso Ma per me Sono un coglione Esatto Ma per me il rischio è Cosa Cosa perdo Se perdo 800 euro Cosa perdo 800 euro Avrò debiti Amen Ci sta Troverò Oh male che va Mi metto a lavorare Lavorerò E lavorerò un anno Per pagarmi debiti Ci sta Ma dall'altra Cosa perdo Perdo l'idea di Cazzo Investo E posso avere Un qualcosa in cambio Che mi può far fare Infiniti Soldi Tipo il percorso Di a Yubo Che abbiamo fatto Ma Cioè se io faccio il calcolo Ho speso X Quanti soldi ho fatto Grazie a lui Certo E se non avessi investito Avrei perso Tutti i soldi Che ho fatto adesso Tutte le esperienze Tutte le amicizie Non avrei conosciuto voi Sì ma da qui A vita Capito A vita Cioè roi Devi guardare Quando spendi Tu devi dire Adesso Perdo una vita Di benefici Se funziona la cosa Se non funziona Ho perso 4.000 euro Ora 6.000 euro Ora La vedi giusta Io sono proprio uscito A cena quella sera Sì poi chiudo Quel mese Feci 22.000 euro A gennaio Perché avevo anche Le commissioni Degli altri clienti Quanti clienti Erano due clienti Ma in realtà Erano tipo 3-4 store in totale Cazzo Pensa se ne chiudo 3-4 così Certo Tu pensa Se io mando qualche messaggio E chiudo 3-4 clienti Che mi danno 10.000 euro al mese Quanto prendevi Come cameriere All'anno 15 16 E finchia Che sono pagato 18.000 euro Di botta Più di lo spendo In un anno Con un cliente Solo Con un cliente E sta roba Mi ha fatto cambiare Perché a me Non è mai piaciuto Il paragone A me il paragone Sai Ah faccio soldi Di un cameriere In un anno In un mese A me non è mai piaciuto Infatti a me Non piace neanche Parlare di soldi Infatti io ho parlato Di soldi adesso Perché ho detto Le robe passate Certo Se ci hai fatto caso Non parlo mai Di quando chiudo i clienti L'ho detto prima Perché ci stavamo Abbiamo fatto la battuta Ma io l'ho sempre detto Aiubio Lo ringrazio Perché mi ha sopportato Quando vedeva che io Ci provavo E le robe non funzionavano E a volte magari Facevo anche un po' Di testa mia Però ha sempre visto Che io lo stimavo E che prendevo bene I suoi consigli Ha visto in me La roba del Cioè io non è che dico Mi ha visto diverso dagli altri Assolutamente no Però ha visto Che io avevo la mentalità Da ragionare in America E lui mi ha sempre fatto I paragoni Da dire guarda che In America ragionano così In America fanno così E mi disse La roba che mi fece cambiare Che fu Metti caso parte qualcuno adesso Tu ti sei mettendo complacent no E mi accontento Sto lavorando bene Lavoro pian piano Dici cazzo Magari arriva uno Che ha più fame di te Ti prende il posto E te non sei più il primo Il mio obiettivo è qua Essere il primo Cioè C'ho l'uno apposta A livello dei risultati Io penso di essere Magari tu dici Gli altri che fanno automation Non sto qua a fare i nomi Perché non vuole fare pubblicità Magari te sei il primo A livello di marketing Ma il primo a livello di risultati A me interessa quello Perché per me Sono i risultati che contano Infatti Quando si approccia Al mondo dell'agency Magari Non dico di a Yugo Assolutamente Ma viene venduto Anche nei vari corsi Che girano eccetera Come corso di acquisiti Più clienti possibile E fine Cioè L'aspetto del delivery L'aspetto di risultati Da portare al cliente Come deve essere approcciato Cioè È fondamentale A me una cosa Che mi ha fatto cambiare la vita E sembra stupido È proprio che Mi è stata venduta La cosa brutta A me a Yugo Non ha mai venduto Ah tu entri Mese se no non paghi No era Tu qua stai facendo azienda Mi fa Prima di partire Tu devi metterti in testa Che qua tu hai un business Non sei un ragazzino Tu qua Devi diventare Un imprenditore Devi parlare ad imprenditori Devi aiutare le aziende Devi far crescere La tua azienda Devi aiutare Parlare con le aziende E io dico La prima cosa che devi fare Datti un nome Al business E inizia a ragionare Come se tu fossi il business Come se il business Fosse la tua vita Tu non sei Claudio Che lavora in camera E l'agenzia si chiama Claudio Agency Tu sei Claudio Il capo Di questa agenzia Di marketing Che lavora con queste aziende E fa questo Adesso sei in camera Lavorate da casa Non è Sono in camera Lavoro da casa È diverso Fidati Se vendessero il business Online Come fai azienda Comprerebbero meno persone Ma comprerebbero persone Di qualità alta Assolutamente Otterrebbero in percentuale Più risultati Ma voglia Ma voglia Perché sei investito mentalmente Perché anche tu Nel podcast con Ayub L'hai detto È talmente semplice Che la gente non lo fa È stupido È vero Perché non ci credi Perché la percezione È che pensi Che per avere un risultato Incredibile Devi fare cose incredibili Se una cosa è troppo facile Per quel risultato Non la vedi come strada Cioè la vedi impossibile Gennaio 2022 Mese record per te Yes 22 mila euro Anche se non è tanto Il risultato monetario Ma è comunque È rivoluzionario Ti dà una svolta Ti sveglia Ti sveglia in che modo Cioè come reagisce Come procedi Mi sveglia perché Come ti ho detto Cazzo Se chiudo un cliente Se perdo questo cliente Ho perso tutto Ma dall'altra Cavolo Pensa se ne prendo altri Come lui E allora inizio a Farmi Tanta strada Nel mondo del Devo andare i messaggi Devo fare outreach Devo fare outreach Devo fare outreach Poi Della comunità Quella del gruppo Di Ayub Io ogni giorno Inizio a mettere i risultati Inizio a dire Mi hanno risposto questi Mi hanno risposto questi Mi hanno risposto questi Questa cosa Mi ha aiutato Io lo facevo apposta Non perché volevo Che la gente mi dicesse Che bravo Mettere i risultati Io l'ho sempre detto Ammetto un po' È brutto Io non è che volevo Spingere gli altri Sì lo facevo anche Per spingere gli altri Assolutamente Ma era perché così Gli altri mi dicevano Guarda che te Stai andando bene E io Mi dicevo Cazzo vado bene Avevi la conferma dall'esterno Sì perché io giustamente Mettevo i risultati Non è che mettevo Quando la gente mi scriveva Sparati Eh certo Mettevi i risultati È capito E quindi sì Da lì iniziano ad andare le cose Febbraio va bene Marzo Chiudo 13 clienti Marzo Mese record A livello di chiusura clienti Solo a percentuale O era fisso più percentuale? A marzo Fisso più percentuale Avevo l'offerta Dove chiudevamo a 3000 euro Con percentuale Arrivavano dall'outreach Arrivavano Manualmente Arrivavano tutti Dai messaggi Ma li facevi tu? Un centinaio al giorno E la gente non mi crede Ma io ho gli shits Dove li mostro E in più gestivi i clienti In più gestivi i clienti E infatti da qua inizia un po' il casino Perché a giugno Vado a farmi una settimana a Roma E mi trovo Con il ragazzo che mi ha spinto Di fare l'agenzia di mail marketing Primo cliente Il primo cliente E sai chi? Il ragazzo Da cui ho studiato A fare mail marketing Io mi trovo a Roma Con il ragazzo Che mi ha insegnato a fare le mail E il ragazzo che mi ha spinto A fare l'agenzia Delle mail Cioè io mi trovo con le persone Che mi hanno portato Dove ero in quel momento È incredibile Sì Infatti in quella settimana Assorbo veramente tantissimo Però hai realizzato Aver cambiato livello Ho realizzato di essere partito Perché ho detto Minchia guarda questi Che fanno magari Six figures al mese Fanno magari 100k al mese Se non di più Io sono ancora agli inizi Cerco di essere Cioè sono da solo Senza team Senza quello Gestivo 26 clienti Eri il più scarso Della situazione In quel momento Io gestivo 26 clienti E in più facevo ancora outreach Miglioravo il servizio Studiavo Io non avevo una vita Quindi invece scusami Loro facevano più soldi Ed erano però ottimi Lavorando di meno Altra sveglia Altra sveglia a livello di standard Perché dico Cazzo Loro non accettano Queste robe di basso livello Non accettano questo Non accettano i clienti così Allora dico Cavolo ma Io perché ho clienti Che mi danno 200 euro al mese Di commissioni 300 euro Allora io torno Da quella settimana La prima cosa che faccio è Scrivo a tutti i miei clienti E dico Da adesso Se volete lavorare Minimo dovete darci 2000 euro al mese Se no non lavoriamo più Tanti clienti vanno via Alcuni clienti rimangono Rimango con meno clienti Ma mentalmente Dicendo Ho alzato lo standard Ho alzato lo standard Per alzare lo standard O quello che dico è Alzare lo standard È la cosa più importante Per qualsiasi persona al mondo Se tu vuoi alzare lo standard Devi effettivamente Seguirlo Cioè se tu ti ci voglio Alzare lo standard Dei clienti che prendo Vuol dire che tu devi a mente Al cliente con cui non puoi lavorare Non devi dire No lo chiudo Perché mi faccio Quei 1500 euro al mese No devi dire Oh 1500 No prendiamo 2005 Non ce li ho Fate vaffanculo Devi essere aggressivo Esatto Devi essere proprio aggressivo Non è neanche un No magari Devi essere proprio no Perché alzare lo standard Ti aiuta a prendere così le cose E dire cazzo Voglio essere il pezzo migliore Di ogni persona che conosco Così alzi lo standard Non Ah no Voglio andare solo nei ristoranti di lusso E la sera mangi al kebabaro Sì Infatti io lo dico Io a livello di standard Ristorativi Io l'ho alzato Però dall'altra Non è che dico no Solo questo Dico sai cosa Quando vado fuori a cena Con le persone Con gli amici Voglio andare in bei posti Ma se sono cillato Io al kebabaro Minchia ci mangio volentieri Nel tuo caso è stato proprio Quella settimana Soprattutto Quella settimana Io ho su Notion E quella settimana È nella È tipo pinnata Nella bacheca Per vederla sempre E ha una roba Come ti giuro Cioè Tipo è un foglio così Di tutte le lezioni Che ho imparato Da quel giugno Diciamo sono iniziati I periodi dove io lavoravo E sai Ragionavo con l'idea di Devo iniziare a prendere il momentum Per Per andarmene Per iniziare a farmi una vita fuori Iniziare a raggiungere i miei sogni Hai iniziato a valutare Un trasferimento all'estero Ma non per le tasse Non per ste cose Io iniziato a valutare Un trasferimento all'estero Perché io in Italia Non stavo bene Io lavoravo e stavo male Cioè hai visto una realtà Diversa proprio però Non come vacanza Ma come quotidianità Ti ha un po' Dato una possibilità Che non avevi mai calcolato Esatto In che modo c'è questa differenza Qui a Bucharest Perché non è la città Dove ho vissuto tutta la vita Un posto diverso Ho stimoli diversi Ho mentalità diversa Ho una pressione diversa Adesso io non posso dormire Non posso sbagliare Perché io devo pagare l'affitto E sembra stupido Perché magari dici L'affitto è irrisorio Però se non lavori I soldi non arrivano E devi pagare Gli amici Io ho amici che stanno crescendo Io non posso rimanere indietro Se rimango a Bolzano Io rimango indietro Io mi reputo come se fossi stato fermo Per un po' di tempo Come se io per un anno Non avessi cambiato nulla Perché ero sempre a Bolzano Sempre nella stessa stanza Ho la stessa sensazione ho avuto io A Milano Sempre nello stesso posto Dove dici Cazzo magari sto facendo Ma non sto facendo niente Cioè cosa sto facendo Ne abbiamo parlato prima Stai facendo i soldi Non stai facendo niente Te Se ti do il buoni soldi Sei ancora un coglione Che vive a Milano Sei un coglione che va a Bolzano Certo Non ho imparato Non ho imparato a vivere Non c'è crescita Io lo ammetto Io prima di venire a Bucharest E' un bambino Adesso io mi reputo maturo Adesso io mi reputo Un ragazzo maturo Secondo te Avreste avuto la stessa No So già cosa No Zero Andando a vivere da solo Zero E infatti A gennaio Mi trasferisco Quando Quando sono in macchina Da Bergamo A Bolzano E rifletto su quello che è stata La mia vita Gli ultimi due anni Ho valutato tante cose E ho detto Cazzo Io ho fatto tutte le scelte Della mia vita Per farmi rimanere a Bolzano Non ho preso una scelta Per me In quel momento io Ho detto Io a gennaio me ne vado E per rendere la cosa Ufficiale E non poter più tornare indietro Bravo Che ne abbiamo parlato Quando abbiamo parlato tutti quanti Sì E ho detto Sai cosa Adesso lo dico a tutti Alla mia ragazza Dissi Io non so Come la prenderai Io a gennaio me ne vado Me ne vado a Bucharest Alla mia famiglia Dissi La domenica Pranzo Dissi Io vi voglio bene Ma Io a gennaio me ne vado a Bucharest Gli ultimi mesi Li ho vissuti male Ma bene Perché Li ho vissuti male Perché era un countdown In negativo Bene Perché era un countdown In positivo Da quando sono tornato a Bucharest Sono cambiato Sono diventato Ancora più apatico Ancora più chiuso Sincero Non so cosa mi è successo Le persone Che mi stanno vicine Me lo dicono Che da fuori Sono diverso Perché magari con voi ci sta Alla fine siamo amici Ci siamo conosciuti Quando eravamo tutti In quel contesto Quindi Già è diversa come cosa Siamo anche più predisposti Al cambiamento Esatto E sappiamo ognuno l'altro Ho tolto Instagram Ho tolto Facebook Ho tolto Twitter Ho tolto tutto Poi arriva il momento Gennaio Dove io ringrazio Alex Che Alex è l'amico mio Con cui io Mi sono trasferito a Bucharest Che mi ha spinto E mi fa Bro Io ti voglio bene E so che per te è difficile Ma se non lo facciamo adesso Tu non lo farai mai Perché tu hai paura di farlo Fa io ti capisco Fa però tu Lo devi fare Fa prendiamo i biglietti Fa anzi Li prendo io 21 di gennaio Giorno ufficiale Di trasferimento Di trasferimento a Bucharest Il primo giorno A livello mentale È stato tosto Perché ho detto Io ho vissuto tutta la mia vita A Bolzano E adesso Mi sono trasferito In un altro paese Cioè Tu si parla un'altra lingua O io ho cambiato paese Nazione Ci ho cambiato tutto Mi sono allontanato Dalla mia famiglia Mi sono allontanato da quello Mi sono allontanato Dalla mia ragazza È stato veramente tosta Però avevo la forza interna Di dire Oh L'ho fatto per il mio bene E anche per loro Che lo faccio alla fine Certo Meno male i miei L'hanno capito questa cosa Io sono Anch'io Diciamo fresco Di trasferimento E Un'altra motivazione Nel tra quelle che hai detto E condivido È che lo faccio Anche per i miei futuri figli Esatto Bravo Lo fai per il futuro Sì Lo fai proprio per tutto Quello che ti circonda In generale Nel futuro Da quanto sei qua adesso? Io adesso sono qua Da gennaio Quindi Un sette mesi Come è cambiata Il tuo approccio Verso il business E la tua persona In questi sette mesi? Sono cambiato completamente Sono cambiato Veramente tanto Io mi ricordo che A febbraio tornai in Italia Per due giorni E Per fare una sorpresa E mi ricordo che Già i miei Mi assorati Mi fa Sei veramente diverso Non so Proprio si vede negli occhi Che sei diverso Ho preso il business Più seriamente Perché io ho fatto Una tatticata Io mi sono trasferito In Romania Con 3000 euro Io ho lasciato Tutto quanto In Italia Apposta Perché così Ti sei messo In una condizione Ho detto così Mi si metto In una condizione Di spingere E infatti è assurdo Perché io ho dovuto Chiudere un cliente Per pagarmi l'affetto Di questa casa Ho le ultime due domande Da fare Vai vai La prima Con la consapevolezza Di adesso Quali sono i tuoi prossimi obiettivi E la tua rotta Adesso ho In mente solo Di focalizzarmi Sul business E su migliorare Le relazioni Perché Penso che lavorare Solo su una cosa Sì ti serva Ma L'idea di trascurare Altro Poi Si espanda In tutto il resto Nel senso che Se io pensassi Solo al business Non penserei Alle relazioni Non penserei A me stesso Non penserei Alla famiglia Non penserei a niente Se invece io ho già La testa solo per il business Ma Al di fuori del lavoro È Relazioni Sia Sentimentale Che con gli amici Posso prendere seriamente Tutto quanto Io da quando sono qua Sono Nel mio stato mentale migliore Stato fisico migliore Stato monetario migliore Stato D'animo Migliore Ovvio Ho fatto Delle giornate Ho fatto delle settimane Qua dove sono stato Veramente Quasi sul fondo Allo stesso livello Del 2019 E ho detto Adesso voglio migliorare Tutti questi aspetti Io adesso sto prendendo bene Queste relazioni Non perché Sono stato io A dire Ah no Io Oh Matte Ti scrivo Vieni Diventiamo amici Facciamo gli amici È capitato Stessa roba In questa situazione Adesso Che c'è adesso Adesso le relazioni Arrivano più naturalmente È bello Con gli amici No immagino È bello questo Io nel business Ho imparato sta roba Che forzare le cose Non va mai bene Sì Ani con i soldi No? Ah voglia Con i soldi L'abbiamo visto tutti quanti Cosa è successo? Si unici Più li vuoi Li cerchi Più li vuoi Scappano Ma anche sai cosa Secondo me Quando dà importanza alle cose Cioè se tu adesso Dai importanza Ad esempio a questo podcast Cerchi di fare di tutto Per portarlo in alto E prima o poi Fai un qualcosa Che dici Ah no Per me lo porta in alto Che te lo rovina Aspettative troppo alte E quindi questo è il bello Che io adesso Deve essere naturale Deve essere un flusso Che ha una direzione E i suoi tempi Sì Io adesso Sono veramente felice Perché ho Persone Come voi Da cui io posso Prendere ispirazione E dire cazzo È veramente un'ispirazione Non solo a livello di business Cioè io ti rispetto A te Matte Non solo a livello di business Anche a livello personale A livello di Relazioni A livello di persone Stessa roba con Omar Stessa roba con Musa Con Ale Cioè Io vi rispetto Proprio Togliendo il business Cioè vi rispetto Proprio perché So che se tolgo il business Voi siete persone Con cui è bello stare Capito? Certo È quello È quello il fatto Io per quello sto bene con voi Perché è naturale la roba Siamo una squadra Esatto Anche con sta persona Con cui sto adesso È bello perché Mi sento veramente Naturale Cioè mi sembra strano Io non sto feicando niente Non sto feicando come sto Non sto feicando La mia salute mentale Non sto feicando i numeri Perché devo impressionarla Obiettivi che ho Futuri Vara Magari a livello di Azienda Il mio livello aziendale Non è misurato nei soldi Ma è misurato nel far crescere Il mio team Io ho un team Che amo Usama Lorenzo Sono tra le persone migliori Che potessi mai conoscere Sono delle persone Che veramente Mi hanno fatto vedere Che ci sarebbero Sempre Neanche nei momenti peggiori Io lo dico apertamente Lo dico a tutti Io ad aprile Ho fatto Meno 2800 euro Io ad aprile Ho perso 3000 euro quasi E loro Sono stati in grado Di non dirmi A Non dirmi B E anzi di dirmi Continua Ma non ci interessano I soldi A dirci a Perché c'è un rapporto umano Che va A maggio I soldi A maggio Mi hanno detto Letteralmente Quando hanno preso poco Loro mi hanno detto A noi dei soldi Non ce ne frega niente A noi se sto mese Lavoriamo gratis Non ci interessa E non è un tu me lo dici Poi dici sì Ci sta Lo dicono per dire Con loro è veramente così Perché io ho visto Che è veramente così Io li ringrazio tanto E spero di trovare altre persone Sai cosa Io non voglio neanche Trovare altre persone come loro Voglio trovare delle persone Che siano in grado Di diventare come loro E diventare bravi persone Perché sono proprio persone Che meritano Il massimo So che non ti piace parlare di numeri Faccio solo un piccolo accenno Su una cosa Mai Separata Io vedo che tu Misuri anche tanto I tuoi obiettivi E i tuoi risultati Su I risultati che porti ai clienti Sì Cioè a volte tu Non ti poni l'obiettivo Voglio fare 100k al mese Io Ma Voglio portare X milioni Dalle mail Adesso Quanti milioni di euro Hai generato Con il tuo lavoro Con le mail A quando hai cominciato Vuoi sapere una roba divertente Sì Io quando ho iniziato Avevo la roba di Voglio mettere Quanto faccio con le mail Infatti all'inizio Avevo 150.000 In email sales Poi l'ho cambiato In 350 Poi abbiamo fatto i 500 E io a dicembre Misi una storia No a settembre Misi una storia Dove dissi Questo Q4 Genereremo in totale 5 milioni Quindi arriveremo ad aver fatto 5 milioni ai nostri clienti 17 dicembre Apro la dashboard di Clavio 10.3 Il doppio Apro di nuovo Clavio E a febbraio Avevamo fatto 11.3 milioni Adesso È da febbraio Che io non vedo Quanto faccio con le mail Hai una stima Hai un'idea Secondo me Sui 15-20 E perché non lo guardi? Sincero Voglio arrivare a 50 Voglio aspettare un bel po' E dire Voglio aprirlo E arrivare a 50 milioni E fare uno screen Ma neanche i 50 milioni Per dire Se fai il calcolo Quanti soldi ho fatto io Perché in realtà Lo dico ragazzi Di quei 10 milioni Le percentuali Non le ho presi Su quei 10 milioni Perché tanti clienti Mi hanno truffato Io devo avere una roba Come tipo 25 mila euro Da clienti Che mi hanno truffato 20-30 mila euro Ma non mi interessa Però il volume Che hai generato Il volume che ho generato Di base Che c'è scritto Sì Sui 15 milioni Io sono contento Perché come hai detto A me dei numeri miei Non mi interessa Perché i numeri miei Impattano la mia vita E quello del mio team Ma i numeri Che io porto a te Impattano la tua vita Quella del tuo team La mia vita E quella del mio team Una frase Che io ho letto all'inizio Che mi ha sempre spinto A fare quello che faccio adesso Ressi quella frase Con quella foto Che fa Quello che fai per te Muore con te Quello che fai per gli altri Dura per sempre E il motivo Perché io ho iniziato A voler diventare famoso Con la musica Fare qualcosa È stato il Io a livello di concetto Voglio diventare immortale Molto bello Ultima domanda Vai Se potessi dare un consiglio Al Jack Di quel mese Riguardo il 2019 Sì Doveri Non sul fondo Ma sotto Dove era successo Tutto insieme La ragazza L'amico Il lavoro La famiglia Eccetera Che cosa diresti Se ce l'avessi qui davanti In questo momento È tosta perché Non saprei neanche Cosa dirgli Però Più che dargli un consiglio Penso Lo ringrazierei Sincero Penso che io adesso Deba prendere un consiglio Dal me Tra cinque anni Rispetto che io Darlo al me stesso Di quattro anni fa Perché al me stesso Di quattro anni fa Io lo ringrazierai solamente Di averci sempre creduto Lo ringrazierai sempre Di non aver mai mollato Di aver sempre Tenuto in mente Il discorso di Devo rimanere Per questa persona Perché anche poi Magari per qualcuno Può essere ancora D'attaccamento a volte Tossico a ste robe Per me era un attaccamento Buono Sincero Per me Mi ha cambiato la vita Quindi mi ha salvato La vita sta cosa E quindi sai L'idea di Cazzo potevi mollare Così tante volte Soprattutto in quel periodo E tu non l'hai mai fatto Cioè Il Grazie perché tu non hai mollato In quel 2019 E il tuo non mollare In quel 2019 Non ti ha fatto mollare Nel 2020 Non ti ha fatto mollare Nel 2021 Non ti ha fatto mollare Nel 2022 Non mi sta facendo mollare Adesso Quando dico Anche che sto facendo i soldi Ma io minchia mentalmente Non sto bene Quindi io lo ringrazierei E basta Se tu mi dici proprio Dovessi dire io Qualcosa Un consiglio Gli direi semplicemente Di continuare A ragionare A livello di Cerca di ispirare Sempre gli altri E capisci che gli altri Prendono sempre Ispirazione da te Però veramente Io lo ringrazierei E basta Grazie Jack Grazie a te Let's go